si vedono tutte le matande tirati su dai vabbè stai così qui c'è ciao mami c'è tua mamma amore salutala ciao socerina senti ti chiamo dopo per chiederti della cucina che poi veniamo a registrare il vlog dovrebbero arrivare tra poco comunque gli operai i facchinetti qui allora questa sarà una live molto seria perché è successa una cosa gravissima aspettiamo un attimo che entrino un po' di persone e poi inizio a parlare salutiamo la fetida che sta facendo la reaction se mi giro faccio anche una live in silenzio una live muta voglio vedere come la reaction come fa la reaction poi voglio proprio vedere ma quella è proprio una schifosa ah comunque sei ingrassata si vede bene bene che sei lievitata e prendi pericolo ma tu sei proprio l'ultima che dovrebbe parlare perché almeno 10 kg le hai presi guarda è inutile che parli proprio ciao a vacazione comunque sei ingrassata ti sei anche imbruttita si vede non è mai stata bella perché non fai una live senza filtri perché non fai una live senza luci rosa senza telefono in verticala ma in orizzontala perché non fai una live mentre caghi perché non fai un video troia o un haul in bikini perché non hai le palle cioè ragazzi cioè l'iMac il microfono rosa la cassa e quella sedia di merda che ti sei comprata da 100 euro cioè che le mie sedie della sala costano più di quella sedia di merda che si è presa e dureranno anche di meno se li hai fatti sapete come? con cosa se li hai pagati? con i soldi che si è fatta vendendo le foto dei miei piedi sì perché il suo amico il bonbon le ha passato tutte le foto che faceva ai miei piedi tutte le foto eh? e come mai io caso strano ho iniziato ad avere il moderatore fantasma proprio dopo aver partecipato ad un hangout come mai? no il telefono il telefono amore fa copyright prendimi il telefono grazie vi copro un attimo mio marito in live arrivo subito ragazzi eh pronto ecco di qua ragazzi mi senti? ciao ciao mi senti ti sento ti sento ma dimmi ti chiamavo dopo perché c'è ero in live adesso c'è tuo figlio lo sai che non sa parlare di un cazzo? mi senti dimmi dai ciao donatella cipolla dimmi sono arrivati quelli della cucina? si ma adesso c'è un problema mi stanno chiedendo dove devono montarla in che senso dove devono montarla? mi stanno chiedendo dove devono montarla ma lo sai che io non me ne intendo di queste cose dove le devo fare montare nell'atrio nella nella sala nella camera nel bagno ma vuoi montare una cucina in bagno? ma scusa come ragioni? ma io mi ricordo una volta che tu dicevi a Davide si montami montami qui mettila qui mettila qui io mi ricordo questa cosa ma socerina dai per favore dai su questa è la mia voce senti ti chiamo dopo va bene? va bene va bene va bene e che cazzo? che la casa è del comune e la cucina è del comune e la parte igienica di chi è? del comune che è quella? allora ciao ciao facciamo a fare un cuglioni Davide io metterei un attimo in bagno amore arrivi subito dei bei coprissedili così non si rovinano ma mia moglie in realtà le ha ordinate le coprissedile su e come e Luciana come si chiamava quel sito ma stai parlando di terrone express ma Luciana ma dai ma non si dicono queste cose dai devo privatizzare la radio ma effettivamente siamo sul canale della Chiara potremmo anche fare un po' di casino ti pare Davide no Luciana basta taci e senti se devi diventare così allora chiudiamo tutto basta comunque per quella persona che mi aveva chiesto dei coprissedili mia moglie le ha ordinate siamo stati poi da un carpentiere che ha visionato la macchina all'interno e ha detto che comunque è in buono state e comunque io amore cos'è sono le mie ciabatte chi è amore amore ti do una notizia però stai calmo quella grandissima puttini puttini di fetida frustata nana di berda ha divulgato la tag della nostra macchina e sta facendo vedere in live tutti i dati sensibili della nostra macchina e si sta inventando che è un'auto d'epoca addirittura guidata da Pablo Escobar e si sta inventando che noi paghiamo il bollo paghiamo l'assicurazione oh ma ma questa è pazza ma come fa a sapere perché praticamente qualcuno ci ha fotografati e adesso praticamente lei praticamente è in live che ci sta deridendo insieme a quel coglione di vodka che sta dando tutti i nostri dati sensibili io domani non mi interessa vado alla caserma tabaccheria edicola che tanto quella è aperta e la vado a fare un'altra denuncia non mi interessa perché questa veramente ha superato il limite insieme a vodka due merde primo noi non pagheremo mai il bollo secondo la macchina non è vecchia è dell'83 va bene e non è vecchia è di due anni dopo quella che avevamo prima ok ti sei sentita realizzata adesso sei felice adesso divulgo io tutti i tuoi dati privati tutti i tuoi dati sensibili visto che la targa è una cosa pubblica adesso divulgo tutte le targhe mi metto a divulgare tutte le targhe adesso mi sono rotta il cavolo amore respira mi raccomando prima di parlare perché è quello che voglio è quello che voglio allora psicopatica lei è quell'altro invertebrato di vodka mamma mia che schifo che gente che schifosi allora ragazzi adesso evidentemente e praticamente mi devo fare un bel respiro questa è tutta violazione della privacy brava brava fetida schifosa brava brava adesso ti porto via nuova ci devi pagare adesso ti porto via tutto anche le mutande che mi fanno schifo puzzolenti hai capito brava fetida brava ma onestamente io questa è pazzia questa è proprio pazzia poi di testa No 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 Questa volta andrò a facerci messa passata Ma eh Onestamente io Ah sì io sto dicendo queste cose Ma eh Onestamente E mi fa anche un po' contenendo Però veramente Ma eh Io Ma no ti prego amore Conta fino a un miliardo Conta fino a un miliardo Prima di parlare Perché ti conosco Conta fino a un miliardo Perché tanto l'è Non ha nullità Lei è questo quello che vuole Insieme a quell'altra Merda Che ti vorrebbe tanto Inchiappettare di vodka Perché giusto quello Può essere uno così Che vorrebbe tanto Inchiappettarti ma c'è soltanto Quella merdaccia di Riccardino A suo fianco Quel mostro immondo Che non l'ho neanche mai visto però è un mostro immondo Va bene Ma anche perché Poi da quando in qua quella macchina è d'epoca Che è del 2001 Cioè no Prima è del 2001, questa è del 2004 2001, il 2000 Perché era due modelli dopo Quella era .0 Questa è la 2.47 Di terzo modello Ma poi fino a dove si spenge Certa gente per farci queste cose Vabbè amore Amore più fai così Più mi fai Ma è normale Ma devono sapere Che lo sappiano tutti che abbiamo gli stalker Ma questi divulgano tutto Allora Camilla Mamma mia che squallore Questa è la Luciana Ma effettivamente Aiuto Ma effettivamente Oh ma questo c***o di muletto Quando Perché quando non registra non va Adesso stai in silenzio Ma mi prendi per il c***o Boh Vabbè Ma tu mi stai prendendo in giro Ma effettivamente Ma effettivamente Ma effettivamente Ma effettivamente Ma affettivamente Grazie a tutti.